Probabilmente la situazione della Tercop si complicherà, in quanto il Movimento 5 Stelle ha presentato un esposto in procura e adesso per l'appunto si indagherà per il fatto che non sia stata fatta una nuova gara per i parcheggi Tercop. Cosa potrebbe accadere? Qual è lo scenario che a questo punto si profila? Diciamo noi da questa inchiesta certamente non abbiamo nulla da temere, noi siamo vittime di queste mancate gare quindi anzi spero che si approfondisca perché appunto siamo proprio estranei e stiamo pagando per colpe non nostre. Per quanto riguarda quello che si prospetta, quello che le voci che girano, siamo veramente esterefatti, si parla di parcometri da gestire in proprio il Comune, si tratta invece di fare quello che non è stato fatto, una semplice gara per regolarizzare la situazione. Il Comune ha un progetto Tercop in mano, anzi due progetti Tercop in mano da quattro anni che dove in pratica si propone di destinare tutti gli utili dei parcheggi al Comune e quindi non vedo cosa avrebbe da guadagnare il Comune gestendo l'improprio, cioè improvvisarsi parcheggiatori quando sappiamo bene che gli uffici competenti non riescono nemmeno a dare una minima di regolamentazione alla sosta selvaggia. Quindi diciamo che si accollerebbe un lavoro che non potrebbe nemmeno portare avanti efficacemente. Però il rischio che appunto la Tercop in qualche modo sparisca a questo punto c'è? Allora noi abbiamo denunciato da anni che diciamo tentativi di far fuori questa cooperativa sociale. Allora oggi i nodi vengono al pettine. Se si vuole risolvere i problemi a vantaggio della collettività e a vantaggio anche dell'occupazione e del lavoro e del sociale, le soluzioni ci sono. Se invece l'obiettivo è vero, era quello di far fuori la cooperativa sociale, in effetti rischiano di riuscirci ovviamente con le conseguenze che ci saranno perché noi non abbiamo alternative e sarebbe una cosa così ingiusta. Anche perché il Comune non solo non avrebbe nulla da guadagnare, ma se noi usciremo in questo modo, anche i cosiddetti 200 mila euro che abbiamo rateizzato col Comune, il Comune ovviamente non incanserebbe mai. Quindi da questa operazione di eventuale gestione improprio il Comune non avrebbe nulla, nulla da guadagnare. Siete preoccupati quindi per questa inchiesta della Procura? Non per l'inchiesta della Procura, devo dire. La Procura fa il suo lavoro e noi ci auspichiamo che lo faccia bene. Noi siamo auspicati ovviamente da un agire della politica che molte volte, anche purtroppo nel nostro caso, non è sempre coincidente con l'interesse pubblico e con l'interesse sociale.